Sarà l'anno delle nuove tasse sulla casa. Debutta la IUC con le nuove tasi e tari, che si sommeranno all'IMU seconda casa ma rappresenteranno l'unica imposta comunale. Oltre alla coda della mini-IMU sulla prima casa, è in arrivo anche la riforma del catasto. Il fisco stringe le maglie contro l'evasione fiscale e immobiliare. Arriva così una norma add-hoc per quanto riguarda gli affitti, che non potranno più essere pagati in contanti, ma solo attraverso pagamenti tracciabili. Le agevolazioni fiscali saranno ridotte entro gennaio, sebbene le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici sia stata prorogata per altri due anni. Nel 2014 rimarrà uno sconto molto alto a 65%, poi nel 2015 scenderà al 50%. Inoltre, le case sfitte che erano state esentate dall'IRPEF perché pagavano l'IMU, tornano a pagare l'imposta sui redditi, anche se solo al 50%. L'imposta salva però le seconde case di vacanza o quelle possedute nei paesi di origine. Le cartelle Equitalia, ricevute entro il 31 ottobre 2013, potranno essere saldate entro il 28 ottobre 2014, pagando solo la somma originaria e non gli interessi e la mora. Sarà poi più semplice la dichiarazione dei redditi per il 2014, occorrerà indicare redditi immobiliari non rivalutati e le spese mediche vanno segnate all'ordo della franchigia di 129,11 euro.